Non hanno fine i litigi nella casa del grande fratello Vip. In particolar modo, dopo la diretta di lunedì sera, 3 gennaio 2022, Katia Ricciarelli e le principesse si sono scontrate. Soprattutto Lucrezia Selassie è quella che ha affrontato più faccia a faccia con la cantante lirica. Nel corso del pranzo di ieri, per esempio, la Ricciarelli ha speso parole molto forti. La situazione, tuttavia, era già degenerata nella notte, quando la cantante aveva usato delle espressioni non molto delicate verso la princess, ah, ma quella scimmia lì. Questo ha fatto andare su tutte le furie il web che non solo se l'ha presa con Katia Ricciarelli, ma anche con i presenti che sono rimasti in silenzio. Però proprio poco fa, Katia Ricciarelli ha ammesso di aver fatto un colloquio con Alfonso Signorini nel confessione, dove ha spiegato a Katia che le parole dette sono una grande offesa. Posso dire che di avere detto una cosa che per voi è un'offesa, ma non è così. E l'ho spiegato anche a Alfonso in confessionale. Voi cosa ne pensate del fatto che Katia possa parlare con Alfonso in confessionale? Grazie. Grazie.